Una tegola dall'Unione Europea arriva la notizia della bocciatura della proroga automatica decisa dall'Italia per le concessioni dei maniali lacustri stabilita con scadenza al 31 dicembre 2020. In particolare si legge l'Unione Europea si dice contraria alla proroga in assenza di gare, in particolare per le strutture transfrontaliere. Si annida la confusione e la confusione ha portato purtroppo a questa drammatica sentenza. Noi come concessionari abbiamo il titolo dei maniali garantito, registrato, pagato gli oneri burocratici, le tasse fino al 2020. La tendenza della Corte di Giustizia ci dice che il nostro titolo è nullo. Beh, adesso noi incaricheremo i nostri avvocati, ma possiamo rincorrere sempre con la giurisprudenza quando questo fatto è competenza di politica ed è competenza del governo? Una tegola che arriva dopo una lunga battaglia portata avanti da anni da istituzioni e rappresentanti di categoria che lo scorso mese di maggio aveva visto il ministro per gli affari Enrico Costa recarsi a Pescara per discutere tutte le novità della temibile direttiva Bolkestein. Io credo che il governo in questo momento debba attivare immediatamente, il ministro Costa l'aveva detto, che a sendenza avvenuta avrebbe messo in piedi una sorta di decreto legge. Bene, noi ci assicuriamo che dentro la prossima settimana si convochi immediatamente il tavolo delle associazioni nazionali e emani questo decreto. Noi diciamo una cosa però, non riusciamo a comprendere perché in Spagna si è potuta consentire la norma transitoria, quindi consentire ai concessionali demaniali di poter mantenere per un lungo periodo la concessione e rientrare negli investimenti. In Italia sono circa sette anni che noi rincorriamo i burocrati, che rincorriamo i dirigenti e non riusciamo a capire perché la politica non riesce ad affrontarlo a questo tema.